Si sono riuniti a Palermo presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, i componenti del tavolo regionale di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e al caporalato. Si tratta di un tavolo che punta a rafforzare l'azione e la composizione dell'osservatorio siciliano sul fenomeno migratorio, si legge nel comunicato, oltre a prevedere nell'ambito della redazione del piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione e il collegato programma annuale, una sezione dedicata come piano regionale antitratta. Durante l'ultimo incontro è stato stabilito di adottare una strategia di contrasto a tali fenomeni, creando anche dei gruppi di lavoro specifici sulla materia. Questo organismo, commenta l'assessore regionale Nuccio Albano, che presiede il tavolo, ha tra i suoi obiettivi quello di stimolare e indirizzare l'azione dei soggetti pubblici e privati coinvolti, un ruolo che deve svolgere con grande responsabilità, nell'auspicio che, con questo impegno, si possa realmente migliorare la vita di chi vive una condizione di grave sfruttamento e, in alcuni casi, di vera e propria schiavitù. Grazie.